Promuovere il turismo nei Monti Dauni attraverso una indagine conoscitiva su risultati, limiti e potenzialità illustrata ieri sera a Foggia presso la fondazione della Banca del Monte dell'associazione Act Monti Dauni, Giuseppe Beccia. La fotografia che abbiamo scattato del turismo nei Monti Dauni, come dire, ci presenta una situazione articolata in cui ci sono punti di forza e punti di debolezza, ma in cui il problema fondamentale ci pare essere la divergenza tra le aspettative e i bisogni sottolineati soprattutto dai tour operator che abbiamo intervistato. Sono stati diversi tour operator che operano in Puglia, che hanno sede in Puglia ma anche fuori dalla regione e quindi abbiamo riscontrato una divergenza tra i loro bisogni, le loro aspettative e l'offerta del territorio. La ricerca è stata promossa dalla fondazione Banca del Monte di Foggia con l'obiettivo di fotografare lo stato dell'arte del turismo sui Monti Dauni, Saverio Russo, presidente fondazione. Oggi vorremmo fare un passo avanti, qualcosa in più, e abbiamo chiamato a darci una mano anche alla Fondazione Puglia e sarà con noi l'ingegner Antonio Gastorani che è presidente della Fondazione Puglia perché insieme vogliamo costruire un'azione di promozione del turismo nei Monti Dauni. Un piccolo intervento che si aggiunge a quelli che è auspicabile faccia una regione e faccia il progetto nazionale dedicato alle aree interne di cui i Monti Dauni sono una parte importante e significativa.